Io non riesco a capire perché c'è questa continua intromissione sulle istruttorie che invece debbono essere lasciate in mano ai tecnici. Completata l'istruttoria, noi dobbiamo rivolgere ai proponenti le criticità che i tecnici hanno sollevato e vedere se i proponenti vogliono recepirle o vogliono abbandonare. La politica, a mio avviso, deve soltanto dire se c'è bisogno oppure no di un nuovo ospedale a Chieti. Non deve entrare nei tecnicismi del RUP, delle valutazioni degli esperti, quello lo fanno i tecnici. L'assessore alla sanità Silvio Paolucci apre alla possibilità di modifiche al project financing per il nuovo ospedale di Chieti, anche se resta ferma la volontà politica della giunta guidata da D'Alfonso di proseguire sul progetto Maltauro. Nel Consiglio Comunale Straordinario di Chieti, chiesto dal Comitato Cittadino per la Salvaguardia del Nosocomio di Colle dell'Ara, le differenti visioni sul futuro del nuovo clinicizzato sono state evidenti, con Forza Italia che chiede di abbandonare il project di Maltauro per avviare uno ex novo su presupposti differenti e con i 5 Stelle che invece bocciano a prescindere l'intervento del privato, chiedendo alla Regione Abruzzo di adeguare l'ospedale con fondi pubblici attraverso l'utilizzo di cassa depositi e prestiti. Le posizioni del sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, e quelle del capogruppo PD di Chieti, Luigi Febo. Il project ormai è un discorso chiuso, ritengo, a causa della inerzia di chi avrebbe dovuto in questi tre anni fare qualcosa e soprattutto a causa della conflittualità che esiste persino all'interno degli uffici dell'AS e dell'AS con la Regione. Abbiamo una certificazione che ci dicono che le palazzine F e C sono pericolanti sotto i profilosismi, quindi noi chiediamo in maniera pulita e nitida che la Regione con la decisione propria ci realizzi un ospedale nuovo su Chieti. Parti più vicine invece quando si discute del DEA di secondo livello. Sia Chieti che Pescara non rispettano i criteri di legge, quindi è necessario un accordo che metta insieme finalmente l'intera area metropolitana. Chieti dal canto suo però chiede la valorizzazione delle eccellenze del rapporto con l'Università e con la Facoltà di Medicina. Invece a far discutere l'istituzione della centrale unica dell'emergenza urgenza, Chieti e Pescara rivendicano la struttura, il capologo adriatico con il nuovo pronto soccorso in fase di realizzazione, quello teatino con la centrale già in essere e oggetto di investimenti fatti poco tempo fa. L'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci propone invece un compromesso, l'installazione nell'aeroporto d'Abruzzo per gestire anche le calamità naturali. In realtà noi dobbiamo costituire una rete di emergenza di secondo livello che per poter portare e centralizzare le acuzie e soprattutto i tempodipendenti per quanto riguarda la rete cardiovascolare a Chieti e per quanto riguarda quella legata alla neurochirurgia e dunque la testa a Pescara ha bisogno di un unico comando perché altrimenti ci sarebbe sempre uno smistamento filtrato a danno dei cittadini. Questa è l'utilità della centrale unica. Siamo convinti che debba essere dotata anche della possibilità di intervenire in caso di maxi emergenze. Parliamo del sismo o di ulteriori maxi emergenze possano verificarsi e vorremmo discutere della possibilità di trovare nella soluzione dell'aeroporto una soluzione che possa garantire anche le maxi emergenze.